Ciao a tutti! Ghosting, sparire invece di chiudere una relazione. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, che cos'è il ghosting? Il ghosting, come dice il nome, ghost, fantasma, è sparire, diventare un fantasma, anziché chiudere una relazione. Allora, è una cosa che si verifica abbastanza spesso, al giorno d'oggi sempre più spesso. Quando una persona stufa, sparisce, senza dare giustificazioni, senza dare spiegazioni, e normalmente blocca dappertutto. Questo capita sempre più spesso, nell'epoca dei social sempre più spesso. Addirittura ci sono situazioni in cui magari uno si fidanza con un altro, cioè ha una relazione con una persona, lascia quella persona sparendo semplicemente, non facendosi più viva, poi quest'altro scopre che questo ha iniziato un'altra relazione dal profilo Facebook, dove mette impegnato con... sono situazioni paradossali, che indicano una depersonalizzazione della vita, cioè le altre persone diventa tutto un oggetto. Non hai voglia neanche di perdere tempo a dire a una persona il minimo, guarda, non mi va più di star con te, un minimo di spiegazione, un minimo del fatto, ma si allontanano chi fa ghosting e pretende che il partner capisca che il loro lontanamento è un modo per chiudere il rapporto. In realtà chi viene lasciato in questo modo ha dei dubbi, delle incertezze, che resteranno sempre aperti, quindi non fai un bene all'altra persona. È un modo molto, come dire, arrogante di chiudere una relazione. È importante se uno subisce il ghosting e capisce che comunque, tutto sommato, si è liberato di una persona che non avrebbe potuto dargli niente. Meglio che venga fuori prima, prima viene fuori meglio è, perché comunque una persona che si comporta in questo modo è una persona che non si merita nulla, quindi a quel punto lì, anche se un giorno ritornerà, sai già che non dovrai riaccoglierla. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!